Buongiorno e buone feste a tutti, pochissimi secondi per raccontarvi i programmi dei prossimi giorni. Allora, mercoledì 27, nuovo video del Colane d'Ercole con la score The Revenant di Ryuichi Sakamoto. Sabato 30 alle ore 17, quarta puntata di Pensieri in Libertà, quindi la live, preparate le domande e sparate come se fossero i botte di Capodanno. E a proposito di Capodanno, lunedì 1, recensione del concerto di Vienna. A fronte però di tutto questo impegno, un regalo chiedo io a voi. Mi ero riproposto come obiettivo dell'anno di arrivare il 31-12 a 2.000 iscritti. Siamo a un passo dai 3.000, quindi già oltre le più erose aspettative. Però io vi vedo, io lo so che molti di voi seguono il canale senza essere iscritti. Quindi fatemi questo regalo, iscrivetevi al canale e cerchiamo di arrivare a 3.000 iscritti entro il 31-12. Ehi tu che non sei iscritto, io ti vedo, iscriviti. Adesso.